ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato qui nel matri lab, oggi sono di corsa sono di corsa perché oggi arriverà un nuovo collaboratore inaspettato perché non era previsto che arrivasse ma poi vi racconterò come mi ha chiesto di venire a lavorare qui perché ho detto di sì però prima devo preparargli la postazione Luca mi ha chiesto di fare lo stage qui da me e sebbene sia della zona non potrà andare a casa a pranzare quindi gli sto ricreando un piccolo ambiente dove poter pranzare anche se poi con sti caldi qua penso lo manderò in ufficio è divertente il modo in cui mi ha chiesto di venire a fare lo stage che non ho capito se si chiama stage o tirocino universitario vabbè ma la storia ve la spiego alla fine ora vado a fare qualcosa perché poi mi sa che assieme a lui dovremmo fare qualcosa assieme permesso che figata ciao Luca ciao primo giorno di lavoro eh eh sì metti giù la roba e ci vediamo qua va bene bene Luca eccoci qua hai voluto fare lo stage qui da me saranno due mesi intensi per chi già se lo chiede ci siamo già fatti il tampone quindi possiamo baciarci abbracciarci ma non lo faremo eh sì sicuramente bene allora prima però di cominciare questo percorso assieme ci sono diverse sfide che dovrai superare ok se ne fallirai una sola sono fuori ok mi dispiace ci metterò il massimo allora cominciamo ok vai ok proviamo bene seconda prova livellamento del piatto ok ok perfetto Matteo stampante è pronta bene Luca ultima prova questa è quella più pericolosa ok va bene vai bene Matteo ho finito bene prove superate ok allora con cosa possiamo cominciare oggi a questo punto se vuoi Matteo possiamo finire le finestre così quello l'abbiamo fatto poi volendo possiamo spostare l'ufficio così si libera un po' di spazio un po' di spazio anche per sedermi a fare i progetti di fianco di te poi visto che c'è un po' di caos là dove ci sono le stampanti magari sistemiamo un attimo e le spostiamo dove c'era il vecchio ufficio così rimane tutto bello in ordine immacolato che dici ci potrebbe stare andata perfetto partiamo iniziamo oh ragazzi favoloso abbiamo già spostato mezzo ufficio abbiamo portato tutto il bancone con le stampanti 3d qui alcune sono sopra alcune sono sotto e poi c'è la parte dedicata ai filamenti e abbiamo spostato da questa parte il laser perchè ci saranno aggiornamenti sul laser perchè ragazzi è successa una roba comunque il ragazzo sembra in gamba ma meglio non farglielo fare capire subito altrimenti magari si siede negli addoni oh Luca gran gran lavoro eh in effetti è venuto fuori veramente bene alti dove vuoi metterlo questo? eh volevo spostarla lì per adibire un po' quella parete aspetta perchè ho preso un lavoro di un insegna per un negozio e devo riportare qui la CNC vecchia che è ancora a casa e pensavo di ricostruirci proprio il frame che la supportava il supporto quindi per ora lasciamoli qui e cominciamo nel frattempo tu potresti preparare il supporto per il tubo dell'aspirazione della CNC nuova che è lì perfetto allora vado bene cominciamo bene cominciamo Luca mi porti le misure? certo allora le misure sono qui e qua c'è il metro e volevo chiedere se riuscivi a tagliarmi anche questo in questa direzione qui lasciandomi uno spessore da 40 ok perfetto stringo a 40 allora grazie sì beh guarda allora lo faccio subito così grazie grazie è veramente fantastico poter essere in due ragazzi in primis perché finalmente un po' di compagnia e ci facciamo due risate ma soprattutto perché riusciamo a portare avanti dei progetti che avanzavano ma lentamente troppo lentamente la cosa però migliore è che Luca mi sta dando una montagna di idee favolose a sconchire a sconchire un po' di compagno di Luca Luca ehi sono andato a cambiarmi perché facciamo un caldo bestia qua ok allora aiutami qua voglio mettere questo a questa altezza abbiamo due gambe per ora esatto una la mettiamo di qua per tac avere l'altezza definitiva prendiamo la bolla tasselli e trapani e 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 Luca dimmi e struttura semi completata lascio a te la realizzazione di un supporto qui in diagonale mentre io taglio il pannello che metteremo sopra pomeriggio si va a prendere la CNC perfetto ottimo via per chi se lo stesse chiedendo sì dovevamo già essere in più di una persona qui nel MatriLab ma purtroppo Mariana non ha ancora trovato l'appartamento per potersi trasferire con la famiglia che ci vuoi fare speriamo che l'estate ci porti un po' di fortuna però a proposito di makers academy stiamo per lanciare il nuovo corso di falegnameria che abbiamo reso ancor più alla portata di tutti e ho pensato per promuoverlo perché non fare un video del dietro le quinte della makers academy chi siamo come ci siamo organizzati quali sono le attività che facciamo durante la settimana beh ditemi la vostra sotto nei commenti fatemi sapere se vi piacerebbe questa tipologia di video ed eventualmente anche le domande che vi frullano per la la testa non 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 ma Grazie a tutti. Ok, io a Matteo di là ho finito, quindi adesso cosa facciamo di bello? Guarda, terminato anch'io. Perfetto. Che dici? Allora, andrei a prendere il CNC perché poi dobbiamo iniziare a preparare tutto, anche se devo capire se il computer va bene per questa CNC, vabbè, andiamo a prendere la CNC perché è arrivato anche un altro. Allora, andrei a prendere la CNC, vabbè, andrei a prendere la CNC, vabbè, andrei a prendere la CNC. Nella postazione che gli abbiamo creato e successivamente abbiamo portato lì il computer e tutto il resto che serviva per poter programmare la macchina. Anche se quel computer lì non è mai stato collegato a quella CNC, quindi ho dovuto sistemare tutta la parte di software perché il software di controllo è differente perché la CNC l'avevo comprata usata e ha un'altra scheda elettronica, non è Stepcraft. Comunque sia, direi che ho tutto l'occorrente per iniziare a preparare le insegne che mi hanno commissionato, però nel frattempo, Luca, potresti prendere la CNC piccolina che è lì nella scaffalatura e posizionarla sul carretto così gli mettiamo un po' di ordine. Poi questo lo lasciamo qua o lo spostiamo di fianco all'altra? Ok, possiamo metterlo di là, però dovrei fare un po' di spazio perché sono arrivate un po' di macchinette che dovremo testare in futuro. Ok, possiamo metterlo. Oh ragazzi, guardate che angolino. Luca, capolavoro. Scusami, sono appena andato a cambiarmi perché avevo un caldo della madonna. Fa niente. Comunque sì, in effetti è venuto fuori veramente un ottimo lavoro. Assolutamente, che inizieremo a sfruttare fin da domani perché dobbiamo utilizzare questa CNC per realizzare un'insegna che ci ha commissionato uno di voi. Vi aggiorneremo perché ne facciamo un video. Però loro vogliono sapere come mi hai contattato, cosa ti ha saltato per la testa per venire a fare il tirocinio qui. È stata una situazione un po' strana perché avevo chiesto a un'altra azienda ma purtroppo all'ultimo mi ha chiuso la porta in faccia. Ho detto perché non scrivere a Matteo magari, essendo che siamo un po' della zona mi accetta. E io il primo messaggio l'ho ignorato, l'ho letto e l'ho ignorato. E il secondo ho detto... Mi è andata di culo, se si può dire. Gli ho chiesto ma realmente ti può essere utile fare lo stage qui? E hanno detto di sì. Al momento sembra di sì. Comunque ragazzi, stiamo per girare il laboratorio come un calzino e stiamo documentando tutto. Non so se vi ricordate le famose scaffalature. Ecco quelle spariranno tutte finalmente, avrà fuori una bella parete attrezzata, tutta bella in ordine. E lì dopo... Guardate, ci vediamo il sabato prossimo perché ogni sabato c'è Luca nel canale. Forse è uno che me la fa giusta a sta finale. Ciao Omega. Oh ragazzi, guardate che angolino. Luca. Oh ragazzi, guardate che angolino. Mi ha fatto morire. Ragazzi, guardate che angolino. Non so se c'è cazzo da ridere su nessun angolino.